La Polizia di Stato cittadina onoraria dell'Aquila a ricevere questo prestigioso riconoscimento è stato direttamente il capo della Polizia in visita nel capoluogo il prefetto Lamberto Giannini, un riconoscimento importante che la città doveva le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno si occupano della sicurezza dei cittadini, persone che hanno sofferto con gli aquilani negli anni più bui dal terremoto alla pandemia. Il prefetto Giannini ha fatto visita come prima tappa alla scuola Maria Leventre dove ha incontrato gli studenti per consegnare la prima copia del libro Un scatto in blu, occasione importante per parlare di legalità con le giovani generazioni. All'editorium del parco invece la cerimonia di consegna dell'attestato del riconoscimento della cittadinanza onoraria, un riconoscimento che ci rende orgogliosi, ha dichiarato il capo della Polizia. Il Consiglio Comunale dell'Aquila con il suo presidente Roberto Tinari ha lavorato molto a questo obiettivo. Sicuramente è un giorno molto importante questa visita e questa cittadinanza è veramente un grandissimo onore per la Polizia di Stato. Ho visto una scuola bellissima, ho visto dei ragazzi molto attenti, molto motivati. Il messaggio è che loro sono i protagonisti di questa ricostruzione e avranno sempre a fianco un'alleata importante che è la Polizia di Stato, ma tutte le forze dell'ordine. Per quello che hanno fatto e quello che stanno facendo e quello che faranno, perché la Polizia di Stato è un punto fermo, almeno per tre ordini di motivi. Intanto perché assicurano la tutela della legalità nel percorso di ricostruzione, poi perché assicurano il controllo del territorio, una città che naturalmente a seguito della ricostruzione sta cambiando, sta cambiando anche nella sua composizione sociale e nelle sue dinamiche sociali. E poi perché ci hanno accompagnato e in questo periodo in cui abbiamo dovuto conciliare le difficoltà del terremoto con le difficoltà della pandemia. La visita del capo della Polizia segna anche l'ultimo atto del questore Gennaro Capoluongo che lascia la città e assumerà la direzione della questura di Messina. Sicuramente sarà all'altezza e proprio perché l'Aquila è una realtà importante ed è una città importante ed ha sempre espresso degli ottimi questori, a breve faremo sapere perché merita una riflessione proprio per l'importanza della città.